Ben ritrovati da Simone Nardone, un appuntamento con informazione locale di Radio Civita in Blu in questo mercoledì 17 giugno 2020. In primo piano, emergenza Covid ancora aggiornata da zero casi in provincia, secondo quanto riportato nel bollettino dell'Asl di Latina. Rispetto alla giornata precedente non sono stati registrati nuovi casi positivi. Ancora vuota il reparto di terapia intensiva del Goretti per quanto riguarda i pazienti Covid. Non sono registrati nuovi decessi, in più nel Lazio nove nuovi casi riscontrati. Riprende l'attività del centro prelievo ITRI, lo ha comunicato proprio la direzione generale dell'Asl di Latina che ha spiegato come il centro prelievo di ITRI riprende la normale attività a partire da quest'oggi. Il servizio sarà attivo nei giorni di mercoledì, giovedì e venerdì dalle 7.30 alle 9.30. Espressa soddisfazione anche da parte del sindaco di ITRI, Antonio Fargiorgio, che ha spiegato come non c'è mai stato il rischio di chiusura del centro prelievi, ma i disagi sono stati dovuti soprattutto all'emergenza in corso. Oggi inizia la maturità 2020, l'esame più particolare degli ultimi anni a causa del Covid-19. Come tutti sappiamo e come ci hanno raccontato tanti protagonisti dagli studi di Radio Civita in Blu ieri sera nella lunga maratona On Air, una maturità fatta dal solo esame orale con le attenzioni di istituzioni e non solo come vicinanza ai ragazzi impegnati per l'appunto nell'esame. In particolar modo Poste Italiane ad esempio ha consegnato per conto della protezione civile a 37 istituti scolastici del territorio pontino i dispositivi di protezione individuale, ovvero le mascherine per gli studenti e i docenti in vista dell'esame di maturità di quest'oggi. A proposito di studenti, tra l'altro laureandi in questo caso, il Comune di Formi ha messo a disposizione la sala sicurezza all'interno proprio del Municipio. Nello specifico fanno sapere dal Comune, tutti i laureandi di questa sessione potranno scrivere una mail a sindaco.comune.formia.lt.it e richiedere l'utilizzo della sala che verrà concessa, ovviamente previa disponibilità. Verranno messi a disposizione un PC con collegamento ad internet ed un proiettore con schermo così da consentire anche ai familiari presenti in sala di poter vivere il momento della discussione finale del percorso di studi. La politica, la Lega di Formia entra a gamba tesa contro il Comune. La Lega attacca l'amministrazione. Nessuna proroga alla scadenza dell'Imu, tuonano dal carroccio. Nonostante le difficoltà economiche delle famiglie a causa del coronavirus, proseguono dal partito di Salvini, il Comune non ha disposto nessuna proroga alla scadenza dell'Imu prevista per il 16 giugno. E a proposito di opposizioni, sempre a Formia, arriva l'intervento del consigliere comunale del Partito Democratico, Claudio Marciano, che accusa la maggioranza, guida Paola Villa, di non essere trasparente. Il Comune con questa amministrazione, accusa Marciano in una nota, doveva essere una casa di vetro. In verità somiglia più ad un bunker, accusa l'esponente di opposizione, dove informazioni e decisioni, tuona sempre Marciano, circolano solo in un cerchietto magico. Questa era la nostra ultima notizia. Vi ricordiamo, come sempre, che potete scriverci su WhatsApp a 348-888-1447. Vi invitiamo a visitare il nostro sito web radiocivitainblu.it. Per questa edizione è tutto. Un saluto da Simone Nardone, un buon proseguimento di ascolto su Radio Civita in Blu.